Passa per i piedi, possiamo dire così, la scoperta di una città, appuntamento domani a Fonte della Noce, giovedì 29 luglio, per una passeggiata. Quanti chilometri saranno? Allora, saranno 8 chilometri, sarà una cittadina, quindi ci muoveremo per le vie di Teramo, per scoprire punti storici di Teramo e ci fermeremo su punti storici di maggior interesse, ad esempio il Castello di Monica che verrà anche aperto per l'occasione e sarà la nostra prima manifestazione all'interno di Natura Indomita. Poi ce ne saranno altre due? Esatto, ce ne saranno altre due, la seconda sarà in occasione della notte di San Lorenzo, quindi il 12 agosto faremo una notturna e il percorso è ancora da decidere, però cerchiamo di rientrare all'interno dei 6 chilometri e mezzo perché appunto è una notturna che faremo con le torce e l'ultima manifestazione invece sarà in chiusura di Sport Sotto le Stelle, sarà la prima manifestazione podistica perché ci sarà una gara che sarà poi in un collegamento con la maratonina pretuziana con la mattina del primo maggio quindi ci sarà anche il trofeo delle palestre, sarà il primo trofeo Natura Indomita e quindi oltre a premi individuali poi ci sarà un premio collettivo con i due appuntamenti il primo maggio e il 19 settembre. Grazie. 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 Grazie.